L'avrete già capito, a noi è parso che i documentari facciano la parte del leone in questo diciannovesimo festival di Torino. Sono quasi sempre belli, originali, emozionanti e testimoniano la rinascita di un genere che ha dato tantissimo al cinema. Del film a soggetto vi parleremo lunedì alla stessa ora sulla stessa rete, ma adesso lasciamo la parola ai protagonisti. Siamo a Torino in un bar che si chiama American Stars, per parlare di un cantante nato a Torino, ma che era più americano degli americani, Fred Buscaglione. Pete Formento ha fatto un bellissimo documentario che si intitola Fred su Fred Buscaglione, un eroe della tua infanzia. Sì, proprio un eroe, forse no, comunque mi suggestionava moltissimo perché faceva delle cose apparentemente sconclusionate e non riuscivo bene a capire come mai ci fosse uno che era cantante, ma nello stesso tempo sembrava fare anche qualcos'altro, il gangster. Era molto intrigante. All'angolo d'un bar sul marciapiede Piaceva molto ai bambini, io ho visto nel tuo documentario che ci sono dei cori di bambini che cantano con lui. Sempre con quella punta di autoironia che lo faceva diventare, come dire, apprezzato dai bambini. Sono Fred, dal whisky facile, sono criticabile, ma sono fatto così. Male, male, male! Però temeva che fosse una cosa costruita sulla sabbia, no? Era, sapeva che faceva un po' il pagliaccio, no? Lei mi incolla d'un lampion. Che sventola. E sei andato anche a cercare sua moglie. Sì. Questa donna curiosissima, tunisina, circense. Lei meriterebbe un film tutto per lei. Lei è stata venduta a otto anni da sua mamma a un circo e da lì c'è tutta una storia. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Una volta si è buttata dal terzo piano della finestra di un albergo che aveva preso fuoco. E si è salvata. E sopravvissuta anche a quello. Beh, lì il circo aiuta. Aiuta. E c'è anche un rapporto alcolico fra i due. Bevevano molto, bevevano molto. Chi lo sopportava meglio, chi lo sopportava peggio. Sia lei che a Fred bevano una bottiglia di whisky a testa liscia al giorno. Poi quando la senti cantare, ti ricorda Billie Holiday, no? C'è questo mondo dietro che la giustifichi in qualche modo, no? Va bene così, loro sono così. Io credo che lui non abbia rifiutato di andare in America. Probabilmente sarebbe tornato indietro. Se infatti Leo Chiosso e Gino Latilla, che erano gli amici più stretti, dicono questo. Perché lui era proprio molto torinese. E Chiosso, gli Asternovas, Buscaglioni, tra loro hanno solo sempre e esclusivamente parlato piemontese. Per cui, sai com'è, per dirla con Canetti, non si abita un paese ma si abita una lingua. E lui non poteva che essere molto torinese. Prima che finisca questa sigaretta, tu mi direi di sì. Secondo me è un po' come quel signore che abbiamo qua dietro, come Jimmy Dean. Tra l'altro questa morte assurda con una macchina come quella che abbiamo davanti a noi, all'alba, a Roma. Lui è toccato così ed è morto come in una sua canzone. Ce ne vuole, eh? Sì, appunto, per questo dico, mi ricordo sempre questo signore qui. Bravo, Pete, adesso andiamo via con questa macchina. Ce ne andiamo con questa macchina. È bellissima. Siamo piano di canale. Assolutamente. Grazie a te. Poi si mette bene in guardia come Rocchi, il gran campion. Vinte il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventolato.